Il modo friggente è l'età di fa diesis, tra il fa diesis e il sol, un semitono tra il sol e il la, un tono tra il la e il si, un tono tra il si e il re bemolle, un tono tra il re bemolle e il re, un semitono tra il re e il mi, un tono tra il mi e il fa diesis, un tono, qui le variazioni sono il re bemolle.